Fai nel fotogasso alto, vai! Alfio! Mi scappi da moro! Alfio! Vieni qua, questa barba! La colpa di chi è questa barba? Di chi è questa barba? Hai superato! Perfetto, Alfio! Ande! Tutte e due, tutte e due! Papà! Eccoli! Alfio e Gigi Chiamaro! In questo momento! Guardate gli occhi di Gigi! C'è una connessione incredibile! Nessuno, tutti morti, tutti morti là! Gigi! Gigi, girati, fatti vedere! Allora, avete attraversato lo stretto! Eh, Gigi? Abbiamo fatto così? Eh? Questa è una miglievole! Perché la via della finale è stata San Biotto! Eh! San Biotto Raguse! Quindi, il campo dice che comunque, mi sembriamo che è sempre stato secondo! E' sempre il sogno degli altri! Adesso, Gigi, che succede? E' un sogno? E' un altro! Eh? Ci giochiamo sempre le partite come ce l'abbiamo giocato sempre! Ok! Non è importante! Senti, io non sapevo di quella storia tra te il Pippo Strano, difensore, io non sapevo! Nel Intercamp! Eh, nell'Intercamp! Non la sapevo! Qui stoppe e io libero! Eh, comunque, grande rispetto in campo fra di voi! Partita durissima! Gli amici si vedono qua! Ok! Perché il calcio è una cosa, gli amici si vedono! È un'altra cosa! Gli amici che è una vinciuta! Paolo, vieni qua! Paolo, io ti ho visto da dietro! Non è una bella battuta! Una storia di calciatore di grande qualità la tua! Tu hai detto durante la gara che è una battaglia, non è una partita! Però il calcio è anche questo! Il calcio è bello per voi! Senti, è l'ennesima battaglia o avete vinto una guerra quest'anno in questo modo? No, secondo me, con il gruppo, con questa squadra, con i misteri che lavoriamo, lavoriamo sempre bene e lavoriamo tanto, ancora questa è una battaglia, dobbiamo vincere la guerra! Mai ecco! O uscivo subito, la prima partita, spero di arrivare in finale! Addirittura siamo a questo obiettivo! Eh sì, perché i miei compagni stimo e poi grazie a loro danno tanta carica! Va bene! Vogliamo credere! Ok, grazie ragazzi! Grazie!